Buongiorno, buon sabato 1 luglio, ben trovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6, l'ultimo della settimana. Partiamo con la nostra rassegna stampa dai titoli dei quotidiani abruzzesi. La prima pagina del centro nell'edizione di Pescara apre con i rapinatori in fuga sulla spiaggia, inseguiti e arrestati tra gli ombrelloni dopo il colpo nella banca di Piazza Salotto. E poi a centropagina l'inserto estivo del quotidiano Il Centro, Teocoli all'Aquilone, così farò ridere gli abruzzesi. Di spalla nelle cronache il mega incendio, rogo devasta la collina dietro a Monte Silvano. E a proposito possiamo vedere anche delle immagini che sono state girate ieri, proprio nei pressi dell'incendio, eccole qui, vedete il rogo che ha lambito le abitazioni, che ha destato molta preoccupazione, ha visto impegnate ovviamente le forze dell'ordine, i vigili del fuoco nelle operazioni di spegnimento, Tanta la paura per gli abitanti della zona che hanno visto le fiamme davvero vicine alle abitazioni. Possiamo rientrare in studio per continuare la lettura della prima pagina del quotidiano Il Centro. Ancora Pescara, persi per strada, ecco i 7 mila oggetti smarriti. E poi la Soget, sciopero per bloccare i licenziamenti. Accade in regione, la fiera Mediterranea lascia l'Abruzzo e va a Milano, e poi gli sconti partono i saldi. Ogni famiglia spenderà 230 euro. Nel taglio basso, il calcio mercato di Serie B, il Palermo insidia Gans a Zeman. Lupo, DS pescarese dei siciliani, fa un'offerta più alta alla Juventus. Il Palermo ha lanciato l'offensiva chiedendo Gans alla Juventus. L'assalto è stato scagliato da un pescarese Fabio Lupo, neo DS del club siciliano. Il Palermo ha approfittato dell'impasse del Pescara, che non ha ancora trovato l'accordo decisivo con la Juventus per il pagamento del cartellino del giocatore. Nel taglio alto elezioni politiche, Mattarella, Blinda e Gentiloni. Il voto è entro primavera 2018. Era ancora la Previdenza, da oggi la quattordicesima, per 3,5 milioni di pensionati questi richiami dal nazionale. Continuiamo con la lettura del centro. Adesso andiamo a vedere la prima di Chieti Lanciano Vasto. Muore l'imprenditore Lanzetta, il titolo di apertura, titolare dell'azienda di vini di Scerni, trovato senza vita a 53 anni, è stata disposta l'autopsia. Di spalla, nelle cronache, Castiglione Messermarino, nuovo caso di meningite, bimbo di due anni ricoverato. E ancora da Chieti, sparisce da casa, ricerche con cani e droni. E poi petacciato, schianto fatale nel giorno del compleanno per Luca D'Aurelio. E poi accade in regione, abbiamo già visto, Mediterranea che lascia la Bruzza e va a Milano per uno spin-off che intende lanciare la internazionalizzazione di questa importante manifestazione della Camera di Commercio di Pescara. E poi oggi è la giornata dell'avvio dei saldi estivi. Nel taglio basso, Chieti, bus, non ci sono corse in più. Prorogato il servizio alla panoramica senza modifiche. Dopo la serrata dei locali del centro storico, per protestare contro la mancanza di autobus notturni, arriva il via libera del Consiglio Comunale a riaffridare il trasporto urbano alla panoramica, ma con corse identiche a quelle già esistenti. Nessuna modifica delle tratte e dalla minoranza si leva la polemica. E poi la stangata, lanciando 34 multe al giorno per la ZTL. Continuiamo con l'edizione di Teramo. Piazza blindata per l'Interamnia. Il titolo di apertura coppa al via con misure di sicurezza mai viste e il comune media con la questura. Di spalla, nelle cronache a Giulianova, il PD ottiene tre assessori e fa pace con il sindaco Francesco Mastromauro. In vibrata, due stalker fermati dal Tribunale e a Roseto. Movida stoppa la musica alle due di notte. Questa è l'ordinanza del sindaco di Girolamo. Nel taglio basso, torniamo nel capoluogo di provincia, in città sono quasi 200, Brucchi basta con i migranti. Ne abbiamo già troppi, non possiamo accoglierne altri, dice il sindaco, che così chiude le porte all'arrivo di altri rifugiati sul territorio comunale, dove già ce ne sono ospiti 196. L'indisponibilità ad accogliere nuovi stranieri che approdano sulle coste italiane a bordo del balcone. Il primo cittadino l'ha comunicata ieri al prefetto, Graziella Maria Patrizia. Poi a Giulianova, tangenti, scarcerati i fratelli Scarafoni. Andiamo a vedere anche la prima di L'Aquila-Avezzano-Sulmona, che chiude questa panoramica sulle prime pagine del quotidiano Il Centro. Ecco i giovani che vogliono cambiare L'Aquila e Il Centro tra gli esordienti nel Consiglio Comunale e Pezzopane del Partito Democratico, dice basta guerre interne dopo la sconfitta nelle amministrative. Nelle cronache agenda per il nuovo sindaco da Guanciale a Galbiati, dieci idee per Avezzano. E poi a Sulmona muore a 102 anni il sacerdote, amico dei poveri Don Vittorio Dorazio. Capistrello, brucia il bosco, mancano aerei e benzine. Vedete una foto del rogo nel bosco di Capistrello. Nel taglio basso l'Aquila, movida violenta, due gli arresti fermati dalla polizia in centro si ribellano agli agenti. Nuovo giro di vite da parte della squadra volante coordinata dal dirigente Roberto Mariani. Il giovedì sera, tradizionale appuntamento di metà settimana, appannaggio degli universitari, ma non solo, è stato caratterizzato da controlli che hanno portato all'arresto di due giovani per minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Poi, sempre dall'Aquila, appalti per i restauri delle scuole, cinque gli assolti. Cambiamo testata, ora passiamo sul messaggero, andiamo a vedere la prima pagina dell'inserto Abruzzo. Meningite, grave un bimbo, il titolo con il quale viene aperto il giornale, il secondo caso in pochi giorni in Abruzzo, e il piccolo di Castiglione Messermarino si è sentito male in spiaggia. Profilassi scattata per 80 persone, migliora intanto la studentessa di Chieti. Andiamo a leggere. Era in spiaggia, vasto quando è iniziato a stare male, prima il vomito, poi la febbre alta. Un bimbo di due anni di Castiglione Messermarino è ricoverato all'ospedale di Pescara per meningite da meningococco del tipo C. Si tratta di una delle forme più aggressive e potenzialmente contagiose. Fortunatamente nelle ultime ore le condizioni del piccolo sono migliorate, la prognosi resta riservata, ma il paziente è reattivo e dialoga con genitori e medici. Nel frattempo la ASL ha attivato un'estesa azione di profilassi a un'ottantina di persone entrate in contatto con il bimbo è stato somministrato l'antibiotico, ma in centinaia, pur non essendo ritenuti potenzialmente a rischio contagio, hanno deciso in modo spontaneo di sottoporsi alla profilassi. Da noi si sono rivolte circa 500 persone, spiega il dottore Cipriano Mastrangelo, proprietario dell'unica farmacia di Castiglione. In paese c'è una sorta di psicosi. È invece uscita dal coma. La studentessa universitaria fuorisede di 22 anni, ricoverata per meningite al Policlinico di Chieti, ieri la ragazza ha scambiato qualche parola con i genitori e ha mostrato altri incoraggianti segnali di miglioramento. La cronaca a Pescara, arresto Lampo dopo il colpo, presi i rapinatori travestiti da Bagnini. Questo dopo la rapina alla Banca del Fucino in Piazza Salotto, messa a segno attorno alle 11 di ieri, sono intervenuti i carabinieri. E poi a centropagina, l'Aquila decisivi Berlusconi, alta stensione. L'intervista, la senatrice Stefania Pezzopane del Partito Democratico, analizza la sconfitta shock del centrosinistra. E poi a Vezzano, seggi contesi, ricorso dell'opposizione. L'ex sindaco Giovanni Di Pangrazio sta valutando con i legali il ricorso contro l'attribuzione dei seggi, obiettivo anatra a Zoppa. E poi ancora nella fotonotizia, sul Mono, aperti i lavori di Fonderia Abruzzo. Oggi il club, piani e risorse, l'Abruzzo fa il punto. La scelta della badia di Celestino sullo Morrone, obiettivo del primo intervento del Masterplan, non è casuale, scusate, il complesso di Sulmona, ospita da ieri i lavori di Fonderia Abruzzo. Di spalla, tuffi vietati, dopo le multe sono spariti i cartelli. Il cartello del Parco della Maiella, che invita a raggiungere la cisterna di Bolognano e a risalire lungo il fiume, è scomparso in questi giorni, dopo le 68 multe distribuite dai carabinieri forestali ad escursionisti che avevano seguito l'indicazione lungo l'Orta e al Cusano. Ai residenti non è sfuggita la novità, un vero e proprio giallo, che spunta la principale arma a disposizione dei multati per impugnare le sanzioni da 300 euro l'una. La segnaletica ufficiale del Parco della Maiella invitava a risalire il fiume, ora ricorsi più difficili. Nel taglio basso, la truffa del vino, tre denunce a Pescara, per mesi hanno truffato le aziende vinicole abruzzesi, acquistavano partite di vino in bottiglia pagando con assegna a vuoto, le rivendevano e poi sparivano nel nulla per ricominciare i loro imbrogli altrove. Un giro illecito di oltre 30 mila euro scoperto dagli agenti della sezione reati contro il patrimonio della squadra mobile di Pescara. Tra le persone denunciate ci sono veri e propri manager della truffa dall'apparenza insospettabile lungo l'elenco delle cantine che sono state vittime di questa truffa. Nel taglio alto, la notte dei saldi, tutto pronto a Pescara per la festa dello shopping, a Teramo sguardi d'autore sulla città in mostra gli scatti dei grandi fotografi e a Pescara, chioschi e servizio salvamento il business delle spiagge libere. Lasciamo adesso il messaggero Abruzzo, ci spostiamo sulla città, il quotidiano della provincia di Teramo, andiamo a vedere la prima pagina. la sicurezza ammazza la coppa, il titolo di apertura, Deor, braccialetti, contapersone, ingressi presidiati, rischio flop per l'evento clou di Teramo, la coppa in Teramnia. A centro pagina, il rogo alla Richetti, le fiamme divampate dall'esterno, è stata aperta una inchiesta per fare luce su quanto accaduto. Nel taglio alto, la cronaca, un arresto e un allontanamento, stalking, altre due casi in Val Vibrata. Di spalla, la crisi a Teramo, morra pronto a mediare, non a fare da appacere. A Giulianova, 4-4, il PD torna in consiglio e poi varate le norme della Movida, orari, musica e vigilanza, il Comune fissa le regole a Roseto degli Abruzzi. Poi troviamo l'appello degli intellettuali, approvate lo Ius Soli, per quanto riguarda il tema legato alla immigrazione, alla cittadinanza italiana per le persone che nascono nel nostro paese, che non sono di origini italiane. Poi, nel taglio basso, l'iscrizione del Teramo, iscrizione alla Serie B a posto, Teramo Calcio e Nasti di Partenza, qui c'è un refuso, ovviamente non è l'iscrizione alla Serie B, bensì alla Serie C, come si chiamerà dal prossimo anno, la Lega Pro. Continuiamo con la lettura dei giornali, adesso andiamo ad aprire lo spazio dedicato al nazionale, e partiamo dalla Repubblica. PD e 5 Stelle ancora giù dopo il voto e Prodi ritorna sul podio dei leader. Questo è il sondaggio proposto da Repubblica secondo Demos, il centro-destra punta al sorpasso, Pisapia e Bersani oggi alla prova della piazza, dunque titolo di apertura dedicato alla politica interna. E poi, navi anche in Francia e in nord Europa, ecco il nuovo piano dell'Unione Europea sui migranti, dopo l'ennesimo appello dell'Italia a non essere lasciata da sola nell'affrontare questa emergenza, questa emergenza in migrazione. Continuiamo con la stampa, il quotidiano torinese, l'Andrangheta conquista il nord con i figli dei boss, cambio al vertice dopo gli arresti degli ultimi anni, giovani determinati e violenti, così le nuove leve scalzano i padri. E poi Italia torna all'era d'oro del turismo, una ricerca spiega il boom di presenze pronti a superare Spagna e Francia. Continuiamo sul fatto quotidiano, il contratto segreto del governo che regala intesa 5 miliardi nostri. L'affare così si arricchirà sul crack delle venite, questo è il titolo dedicato al salvataggio delle banche venete. Dal documento si scopre che per intervenire su Veneto Banche e Pop Vicenza, l'istituto di Carlo Messina ha già incassato gli aiuti 332 mila euro per ogni esubero e su 500 milioni di euro immobili pagherà solo 200 euro di tasse. Ancora incapaci, tanto lavoro per consulta età, salva stalking, un'altra legge scritta coi piedi, Orlando fa mea culpa. Centropagina, Cosipella abusava dei coristi, tutte le accuse al cardinale, scandalo in Vaticano, nelle carte degli inquirenti australiani, le voci delle vittime. Continuiamo con il messaggero, migranti, giro di vite sulle ONG, le condizioni del governo per evitare il blocco navale, regole più severe per le navi umanitarie e porti alternativi per gli sbarchi. Il gelo della Unione Europea, nessuna risposta per Roma dal vertice di Tallin. Poi Mattarella, governo blindato, si voterà a primavera, così il capo dello Stato che sembra chiudere a un'ipotesi di elezioni anticipate. Il caso che sta facendo discutere un po' tutto il mondo, Charlie, ancora qualche giorno di vita ai genitori, fatelo morire nella sua casa, rinviato il distacco delle macchine, polemiche, anche in Italia, per questo che è un caso che ovviamente ci pone davanti dei grandi temi etici. Poi Roma, disastro, buche, ogni giorno sette richieste di danni al Campidoglio, picco di risarcimento a causa delle voragini stradali, il doppio rispetto al 2015, indennizi per 7 milioni. Questa è l'inchiesta che riguarda il Comune di Roma. Restiamo ai quotidiani romani. Il tempo. A volte ritornano dossier antiterrorismo i jihadisti cacciati da Mosul verso l'Europa, gli 007 e l'esodo degli sbandati dell'Isis aumenta il rischio attentati. Questo è il dossier che viene riportato dal tempo. E poi tieni duro i figli di Dell'Utri scrivono al papà ancora adesioni scrive il tempo alla nostra campagna. E poi accettata l'offerta dei blues per il tedesco 33 milioni più 5 di bonus siamo ovviamente allo sport e al calcio è fatta Rudiger va al Chelsea tesoretto romanista a 120 milioni. Nel taglio basso Vasco e Zero bentornati gli anni 70 stasera i due concerti dell'anno per un'Italia che non esce dalla nostalgia. Andiamo sul manifesto ora la bella coalizione il titolo sulla fotonotizia giornata storica in Germania e il Bundestag approva la legge sul matrimonio per tutti e archivia la più blanda normativa sulle unioni civili. Vittoria dell'alleanza rosso-rosso-verde tra SPD Verdi e Linke compatta sul voto. Merkel dice no ma senza barricate feste in piazza. Nel taglio alto in piazza insieme ma non con il Partito Democratico a Roma l'iniziativa con Pisapia e Bersani e poi Mattarella frena il consultellum voto a marzo con leggi omogenee. Continuiamo con il dubbio un altro ottantenne lascia la pelle in cella questo è il titolo di apertura stava al 41 bis aveva un tumore lo hanno rilasciato tre giorni prima della morte e poi intervista al generale Mori ex capo delle SISDE profughi terroristi e una bufala. Nel taglio basso campagna elettorale anche sul piccolo Charlie cinismo al diapason grillo e l'eutanasia del bimbo inglese. Andiamo sul libero ora governo di Pecoroni il titolo di apertura chiusura dei porti retromarcia di Gentiloni nel timore di ritorsioni della Unione europea continueremo ad accogliere i migranti da tutto il mondo ci siamo rimangiati in 24 ore l'impegno a impedire di sbarchi il premier preferisce accontentare l'Europa piuttosto che gli italiani così scrive il quotidiano diretto da Vittorio Feltri 100 profughi in rivolta per i nuovi arrivi l'unico blocco efficace è quello che i migranti si fanno da soli e poi a centropagina la foto del ministro dell'interno Minniti caro Minniti se non ti ascoltano dimettiti o ti danno retta sui rispingimenti oppure vattene andiamo sulla verità il quotidiano fondato e diretto da Belpietro porti aperti agli immigrati linea dura soltanto a parole titolo vedete molto simile rispetto a quello precedente un giorno di proclami poi la retromarcia nessun blocco per chi arriva gli sbarchi continuano senza sosta l'Europa ci dice di arrangiarci e perfino i profughi ammettono di essere in troppi poi a centropagina dal Papa della misericordia sull'uccisione di Charlie solo un tweet senza il nome questa è la critica mossa a Papa Francesco poi a centropagina Prodi spacca l'idiglio tra Renzi e Berlusconi il cavo insiste sul modello tedesco preludio al governissimo il prof attacca coalizioni oppure sono guai il mattino di Napoli migranti restino solo i bambini il governatore della campagna stop all'accoglienza eccezioni per i minori non accompagnati De Luca si è rispingimenti l'Unione Europea intanto gela l'Italia al vertice di Tallin nessuna risposta e poi cittadinanza onoraria Maradona si è alla festa ma c'è il caso compenso show al plebiscito limitato a 30.000 Siani dice sarà un omaggio al nostro PIB ai grandi Edoardo Troisi e Daniele i grandi della cultura partenopea poi la tragedia del piccolo Charlie divide il mondo Londra i medici rinviano lo stop alle macchine diamo un giorno in più ai genitori che hanno perso la battaglia legale per poter curare questo bambino negli Stati Uniti con una cura sperimentale che però secondo i giudici non ha i fondamenti scientifici perché non è ancora stata testata nemmeno sugli animali ed è per questo che è arrivata la decisione favorevole ai medici che hanno così detto che sul bambino si potrebbe avere un accanimento terapeutico perché le sue sofferenze sono ineludibili continuiamo con la lettura dei nostri giornali delle prime pagine il secolo XIX il quotidiano genovese strappo nell'epid prima del duello Renzi Pisapia Mattarella dice probabile il voto in primavera la Spezia lasciano 42 orlandiani e finita il ministro ripensateci e poi i folli ride dei vandali otto stazioni chiuse di notte in Liguria danni per 350 mila euro le ferrovie corrono ai ripari continuiamo violento e spietato fu implicato nel caso Pasolini Cairo l'evasione beffa del killer in semilibertà detto Johnny Lozingaro di nuovo in fuga ed è polemica sui permessi premio continuiamo con avvenire fine vita il Papa difendere i malati impegno d'amore questa la presa di posizione del Santo Padre l'ospedale accorda una proroga prima di staccare il respiratore al piccolo Charlie naufragio davanti alla Libia intanto muoiono donne e bambini tornando sul caso del piccolo bambino inglese a Charlie concesso ancora qualche respiro andiamo adesso sulla gazzetta del Mezzogiorno Lode Mattarella per Gentiloni si voterà in primavera bene il governo per il lavoro sulle banche venete migranti Juncker sforzi extra per Italia e Grecia Brindisi intanto sbarcano in 400 e poi la politica Renzi Pisapia nuovo round pro di premi alle coalizioni addio intanto ad Equitalia debutta la nuova agenzia per la riscossione l'ex premier no alle vecchie formule e poi Regione Puglia spesa dei farmaci risparmi per 6 milioni ok alla gara centralizzata andiamo sul gazzettino il quotidiano del nord-est l'emergenza migranti l'Europa è immobile scrive il gazzettino la minaccia italiana di bloccare i porti non smuove l'Unione Europea per ora nessuna decisione e a Cona nel veneziano profughi africani bloccano i bus che portano nuovi immigrati e dicono siamo in troppi gli effetti del blocco sull'export e le sanzioni alla Russia sono già costate 652 milioni di euro al Veneto bilancio pesante su questo fronte un po' per tutta l'Italia che vive di esportazioni sulle banche ex popolari e i pieni di intesa non taglieremo il credito niente licenziamenti attenzione ai clienti soci questo per quanto riguarda il salvataggio delle banche venete c'è il processo a Iara Gambirasio per quanto riguarda l'omicidio di Iara Gambirasio Bossetti in aula attacca il giudice dice solo idiozie continuiamo con la lettura dei quotidiani nazionali adesso apriamo quelli sportivi andiamo sulla gazzetta dello sport speciale oggi via al mercato Borca c'è l'Inter va al massimo e poi da CR7 a Belotti i tifosi sognano così voglio un'estate spericolata ci aspettiamo due mesi roventi e girano tantissimi soldi intanto addio con Scintiglia la Fiorentina ora i nerazzurri puntano Di Maria in Nainggolan Juventus c'è il Sidi Danilo tutto su Bernardeschi nel taglio basso Milan Calanoglu a un passo 20 milioni Roma Rudiger al Chelsea continuiamo con il corriere dello sport Juve poker servito quattro assi champions per Allegri Matuidi De Sciglio Danilo e Bernardeschi sono loro gli obiettivi del mercato bianconero per ridare l'assalto all'Europa pronta l'offensiva finale al gioiello della Fiorentina nel taglio alto Regine d'Europa il Barca chiama Verratti ansia reale per Ronaldo City subito 120 milioni le Big de la Milan c'è Calanoglu l'Inter Sanchez dell'Ajax la Roma su Berardi colpi segreti l'inchiesta del Corriere con i procuratori Aghiero per Napoli nel taglio basso la tu per tu di Walter Veltroni Pietrangeli ero calciatore ma il tennis mi ha stregato il ciclismo al Via un Tour de France disegnato su misura per far vincere Bardet il trioffo francese manca da 32 anni l'ultimo fu di Hino e poi Vale si allunga la carriera posso arrivare a 40 anni per quanto riguarda il Moto Mondiale la MotoGP su tutto sport ora voglio una Juve spericolata con la foto di Allegri i tifosi e il tecnico invocano la scossa nella campagna acquisti all'insegna del motto di Vasco Rossi protagonista del concerto evento questa sera a Modena con 220 mila persone previste nel taglio alto il Toro Simeone vota Granata arriva la gente si tratta nel taglio basso il mercato Gilvia il nostro speciale colpi operazioni e retroscena poi l'Inter di Maria in regalo a Spalletti ciao Rudiger va da Conte lasciando la Roma all'estero Germania fabbrica di talenti l'Under 21 è campione d'Europa ha battuto la Spagna in finale poi il Tour Aro e Quintana sfidano subito il tempo e Chris Froome questo per quanto riguarda le prime pagine noi adesso ci fermiamo per il break pubblicitario prima però andiamo a vedere le previsioni meteo poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna a tra poco eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6 torniamo alle notizie dalla nostra regione riapriamo le pagine interne dei quotidiani abruzzesi ripartiamo dal messaggero nella pagina Abruzzo Masterplan fondi dell'Unione Europea decreto sud Fonderia fa il punto sulle risorse sulla Leopolda d'Abruzzo aperta ieri da D'Alfonso la badia celestiniana vota scusate pesa il dopovoto spicca l'assenza di Gerosolimo politica imprenditori e parti sociali a confronto sulla programmazione oggi si entra nel vivo con ministri e ospiti VIP imprese una spinta all'innovazione dal patto con l'Università dell'Aquila l'accordo siglato con la Camera di Commercio punta la crescita di ricerca e formazione poi l'encomio al Capo di Stato Maggiore Graziano Sisma e Neve il grazie degli abruzzesi all'esercito andiamo sul centro adesso andiamo ad aprire la pagina di primo piano Abruzzo corsa i saldi oggi partono gli sconti spesa di 230 euro a famiglia un esercizio su 4 partirà con il 50% si andrà avanti fino al 29 agosto Codacons il settore va liberalizzato perché ormai chi vende online fa prezzi scontati tutto l'anno cioni della Confcommercio sono ancora una occasione così il direttore di Confcommercio Abruzzo intanto Pescara si accende negozi aperti e musica in strada tutta la notte per lo shopping incontri manifestazioni ed eventi questa sera in occasione dell'avvio dei due mesi di sconti in piazza Salotto il concerto di Morseglie e Cirillo nelle vetrine una mostra di fumetti d'autore continuiamo con la lettura del quotidiano il centro andiamo ad aprire la pagina Abruzzo agroalimentare fiera mediterranea lascia l'Abruzzo e punta su Milano dopo 32 anni il 5 luglio diventerà borsa enogastronomica abruzzese Beci il marchio della nostra regione fa un salto di qualità e allora andiamo a vedere insieme il servizio che presenta appunto questa nuova versione di Mediterranea il target principale sono gli operatori del settore grossisti importatori e ristoratori soprattutto per loro affinché il Made in Abruzzo faccia il giro delle tavole mondiali è stata pensata la borsa enogastro turistica abruzzese spin off della fortunata Mediterranea che si è tenuta per diversi anni in estate nel porto turistico Marina di Pescara basta cantarcere e suonarcela da soli dice il presidente della Camera di Commercio di Pescara Daniele Beci è ora di spostarsi lì dove si possono incontrare occasioni di affari e di export a Milano la capitale finanziaria italiana sarà il palazzo della Camera di Commercio Meneghina il prossimo 5 luglio ad ospitare una giornata interamente dedicata ai prodotti dell'enogastronomia abruzzese e alla promozione del territorio costiero e montano della nostra regione in programma un B2B che faccia incontrare domande ed offerta del settore agroalimentare e turistico e poi una serata di gala con il format Farmer dalla terra alla padella una cena in cui sarà promosso l'abruzzo fatto di mare di monti di borghi ma soprattutto di eccellenze agricole culinarie stiamo provando a fare un salto di qualità il salto di qualità è quello di andare su quella che oggi la più grande piazza il più grande palcoscenico per l'internazionalizzazione che è la città di Milano sapete tutti che Milano in controtendenza con il livello nazionale ha un PIL che aumenta del 4% all'anno per cui già questo ci fa capire che lì ci sono numeri importanti e noi devo dire il settore promozione della Camera di Commercio ha deciso appunto di puntare su Milano su questo grande palcoscenico che riteniamo oggi essere uno degli elementi portanti soprattutto per l'affermazione delle nostre aziende in Italia ma soprattutto all'estero Continuiamo con la lettura del quotidiano il centro nella apertura della pagina di Pescara troviamo la cronaca fuga tra i bagnanti e i rapinatori in costume arrestati sulla spiaggia possiamo vedere anche le immagini relative alla banca del Fucino di Piazza Salotto che è stata rapinata ieri dopo il colpo alla banca i due sono scappati al mare con 7 mila euro in una busta presi tra il Plinius e il Jumbo con il taglierino puntato alla gola del cassiere si sono fatti consegnare i soldi ma una cliente è riuscita a scappare e a dare l'allarme ovviamente altri dettagli saranno forniti questa mattina in una conferenza stampa organizzata dai carabinieri che hanno effettuato l'operazione le persone fermate sono Roberto Reddavide 30 anni e Vincenzo Strafile 28 entrambi pugliesi di Cerignola possiamo tornare sul giornale vedete qui le fotografie dei due arrestati restando sempre ai carabinieri una città di smemorati dalla sigaretta elettronica all'auto 7 mila le denunce di tutti i generi gli oggetti smarriti segnalati ai carabinieri ma c'è anche chi finge di perdere i documenti per non pagare tra i tanti casi c'è la babysitter terrorizzata per aver perso la borsa con i vestitini griffati del bambino chi reclama il passaporto come oggetto ricordo andiamo a vedere insieme anche questo servizio 6 mila 926 e questo è il numero delle denunce di smarrimento documenti raccolte dai carabinieri di Pescara nel solo 2016 con un trend che non accenna a diminuire anche nel 2017 vengono smarrite carte di identità per lo più ma anche passaporti patenti di guida certificati di proprietà e carte di circolazione dei veicoli oltre a smartphone e carte di credito tutti documenti contenenti dati sensibili ai quali bisognerebbe prestare la massima attenzione che invece troppo spesso vengono dimenticati e non rubati per questo i carabinieri invitano a denunciare solo quando si ha la certezza di non riuscire più a trovarli se i giovani denunciano smarrimenti per distrazione con l'aumentare dell'età i documenti spesso vengono ritrovati a poche ore dalla denuncia magari in casa creando così un aggravio di lavoro per i militari dell'arma al di là di tutto i carabinieri sottolineano come si debba prestare la massima attenzione ai propri documenti personali anche per non diventare ignari protagonisti di reati quali truffe online o insolvenza fraudolenta occhio quindi a non farsi rubare l'identità dalla delinquenza comune solo una piccola percentuale dei documenti infatti finisce nelle mani della criminalità organizzata l'attività che più comunemente viene praticata attraverso il documento o rubato o comunque acquisito perché ritrovato in quanto smarrito è sicuramente quello delle truffe online c'è il rischio che il truffatore si impossessi anche della identità di altre persone e avvalendosi appunto di questa fittizia di queste fittizie generalità o meglio di queste generalità reali che lui si attribuisce e faccia ricadere poi su un altro le responsabilità che sono proprie Nell'apertura della pagina di Pescara del messaggero troviamo un'altra notizia di cronaca un'altra operazione questa volta della polizia truffa del vino scoperta la banda tre persone delle pescarese denunciate dalla squadra mobile acquistavano forniture di bottiglie versando assegni a vuoto vittime del raggiro 13 aziende viti vinicole del territorio nell'organizzazione anche una donna ricercata dalla polizia da un'indagine su un prestito scusate su un presunto giro di droga è emerso il traffico illegale della merce torniamo sul quotidiano il centro e continuiamo con la lettura delle pagine interne sciopero e si tina la sogget fermate i licenziamenti manifestazione con un centinaio di dipendenti per protestare contro l'azienda che ha annunciato taglia al personale bloccata via venezia traffico nel caos allora andiamo a vedere anche questo servizio curato da Paolo Renzetti protesta dei dipendenti della sogget questa mattina a Pescara dinanzi la sede di via venezia Cipollini quali sono i motivi di questa protesta noi protestiamo innanzitutto contro la procedura di licenziamento che ha aperto l'azienda e che prevede 26 esuberi in Italia tra gli ufficiali di riscossione di cui ben 20 in Abruzzo siamo qua per protestare e siamo anche preoccupati per il fatto che la riforma fiscale che prevede l'abolizione di Equitalia prevede anche che i servizi di riscossione e i tributi locali effettuati oggi dalla sogget vengono passati alla nuova agenzia nazionale di riscossione ma non c'è alcuna salvaguardia per i lavoratori della sogget per cui da domani loro rischiano seriamente i loro posti di lavoro in Abruzzo la sogget impegna 140 dipendenti circa una gran parte di questi rischiano seriamente il posto di lavoro a partire da domani nel senso che dal primo luglio sono in effetti la riforma situazione difficile e i lavoratori preoccupati lavoratori molto preoccupati noi come rappresentanti sindacali percepiamo le preoccupazioni dei lavoratori perché abbiamo le famiglie con i figli a carico nuclei familiari e ovviamente speriamo in una soluzione immediata nel tavolo nazionale che faremo all'inizio del mese di luglio chiediamo all'azienda di concelare la procedura di licenziamento collettivo in quanto il governo regionale e il governo nazionale hanno aperto un tavolo e sembrerebbero che ci siano degli spiragli sogget è una realtà scorporata da Equitalia contrariamente alle altre società di riscossione che operano sul territorio locale e deriviamo da uno scorporo del ramo d'azienda per la fiscalità locale abbiamo ereditato nelle province di Chiedi Pescara Teramo e Taranto le quattro concessioni e ovviamente adesso tutti i dipendenti sono legati a queste concessioni il governo ha sempre concesso proroghe nazionali e siamo arrivati adesso all'ultima proroga che è il 30 giugno 2017 il governo è vero che ha varato la manovra fiscale la 50 del 2017 ma non ha contrariamente a tutte le altre riforme attuato la clausola occupazionale per la salvaguardia appunto occupazionale del personale continuiamo torniamo sul messaggero fuoco tra le case paura a Montesilvano facciamo partire le immagini di ieri sera un incendio divora il colle belvedere evacuate per prudenza decine di famiglie il ruogo è partito da stoppie bruciate da un agricoltore portato in caserma dai carabinieri sarà denunciato titolo anche sul quotidiano il centro paura a Montesilvano a fuoco la collina abitazioni a rischio il ruogo di sterpalle si è steso al bosco lo ha divorato denunciato il responsabile evacuata la casa di due anziani ovviamente l'appello a tutti a prestare molta attenzione quando si accendono dei fuochi nel periodo estivo infatti le alte temperature possono provocare insomma fuochi e roghi ben più ampi che più delle volte così non riescono ad essere controllati in maniera adeguata continuiamo con i nostri giornali restiamo al quotidiano il centro multe a chi lega le bici fuori dalle rastregliere ordinanza del sindaco viete i parcheggi accanto ai pali e sulle aiuole della riviera appena riqualificate previste sanzioni fino a 500 euro e la confisca del mezzo questa è la decisione dell'amministrazione di Pescara presidente condannato per un viaggio corte dei conti becci paghi 2500 euro per le due edizioni del Columbus Day negli Stati Uniti febbre da Vasco Rossi per 3600 abruzzesi per il concerto evento di stasera a Modena in 2400 partono in auto 600 in pullman e 500 in treno andiamo avanti la pagina di Montesilvano emergenza sociale arrivano altri 50 immigrati a Villa Verrocchio e Villa Verrocchio insorge il sindaco non resteranno in città il tetto non supera le 161 presenze in prefettura l'apertura delle buste con le strutture disponibili e sospiri attacca nel taglio basso raccolta rifiuti porta a porta ecco come fare da lunedì al colle cambia il conferimento per 2100 famiglie giorni e orari da rispettare la pagina di Francaville dell'area metropolitana il vigile senza casa trova ospitalità a Francaville il comune paga un bed and breakfast all'ex maresciallo licenziato a Pescara per assenteismo Solari dice sono stati umani il vice sindaco è un senza tetto trattato come gli altri la segreteria PD del circolo di Francaville di Battista il PD sconfitto perché non ha strategia e poi sempre da Francaville fermate quei camion sulla nostra strada protesta dei residenti di Contrada Querciano Tarrocco Marinelli replica interverremo andiamo ancora avanti con le pagine del centro Penne Popoli Altaval Pescara il manager dell'ASL l'ospedale di Penne sarà potenziato dopo il corteo dei 600 a Pescara Mancini illustra l'atto aziendale previsti 33 posti letto e 7 reparti in più del decreto Lorenzina allarme ingiustificato nessuno pensa che l'area vestina possa fare a meno dell'ospedale ma è una follia chiedere di trattare lì i codici rossi accorpamenti inevitabili in estate quando i ricoveri diminuiscono il personale va in ferie i reparti si sono sempre uniti queste sono le spiegazioni della ASL di Pescara nel taglio basso il comune di Popoli su una app filo diretto 30 cittadini con l'applicazione gratuita per i device mobili visto che ci siamo andiamo a dare uno sguardo alla pagina di Chieti tragedia Monteodorisio muore a 53 anni l'imprenditore Lanzetta il titolare dell'azienda di Vini di Scerni trovato senza vita sul piazzale di un'altra ditta la procura dispone l'autopsia e poi schianto fatale nel giorno del compleanno incidente sulla statale 16 a Petacciato in Molise il giovane organizzatore di eventi avrebbe compiuto 24 anni si tratta di Luca Daulerio di Montenero di Bisaccia nel taglio basso giallo a chi di scalo pizzaiolo scomparso da 4 giorni si cerca con droni e cani e poi Castiglione Messer Marino bimbo di 2 anni con la meningite profilassi per 80 persone andiamo sul messaggero ora andiamo a vedere le altre le altre notizie ripartiamo dalla pagina di Chieti ospedale Maltauro il progetto incassa un altro no questa l'apertura della pagina l'avvocato Velia Leone teme notevoli criticità e invita a modificare la proposta per non rischiare atti legittimi Febbo per D'Alfonso un altro duro colpo dice il presidente della commissione regionale di controllo si vuole far perdere al Santissima Annunziata i requisiti per la DEA di secondo livello grave bimbo colpito da meningite appena a due anni si è sentito male in spiaggia vasto ha sviluppato la forma più aggressiva di meningococco ci portato all'ospedale di Pescara sta rispondendo alle cure la ASL ordina la profilassi centinaia di richieste nella farmacia di Castiglione Messer Marino paura tra i residenti il sindaco Magnacca no ad allarmismi andiamo adesso sulla pagina di L'Aquila andiamo a vedere altre notizie dal capologo di regione e dalla provincia sempre sul messaggero progetto case smantellamento parziale in attesa dell'Europa il governo pronto a elaborare un piano dopo l'esame del comitato di indirizzo resta da capire quale sarà il destino dei mappe delle residenze per studenti il neosindaco biondi ha partecipato assieme eccellente al summit nella capitale poi controlli alla movida altri due arresti per droga nel blitz della polizia e slittano a luglio i finanziamenti per l'edilizia privata nell'ambito della ricostruzione andiamo avanti l'Aquila la pezzopane il risultato è uno shock la senatrice dei democratici analizza la sconfitta al ballottaggio i nostri elettori sono andati al mare pensando di avere vinto mi sono preoccupata quando Berlusconi è sceso in campo non ci sarà scontro con Di Benedetto per la candidatura in Parlamento e poi la Blundo i 5 Stelle non ha votato il centrodestra al ballottaggio le manovre Salvignani contro Forza Italia non possono pretendere tutto stoppata la richiesta di tra assessori più vice sindaco siamo stati noi la vera sorpresa infatto di voti nella pagina di Avezzano Sulmona ancora la politica seggi l'opposizione presenta il ricorso l'ex primo cittadino di Pangrazio il vecchio staff e alcuni legali hanno preso in esami verbali delle operazioni dell'ufficio centrale il sindaco Gabriele De Angelis e i suoi collaboratori già al lavoro sui primi provvedimenti per avviare la macchina amministrativa passiamo adesso alla città per andare a vedere le notizie da Teramo e provincia allora andiamo a recuperare le pagine interne del giornale in primo piano i problemi legati alla sicurezza che stanno che stanno così mettendo in difficoltà la macchina organizzativa della Coppa Interamnia la sicurezza sta ammazzando la Coppa il titolo di apertura l'evento più importante dell'anno per l'economia cittadina danneggiato da misure assurde e troppo restrittive la posizione della città la protesta e i locali di Piazza Martiri riescono a strappare la normalità per la serata di Miss e Mister per l'inaugurazione niente da fare nel taglio basso gli organizzatori difficile organizzare l'evento in una città blindata alla presentazione di quest'anno intanto mancano i volti storici della manifestazione ecco alcune misure di sicurezza gli ingressi presidiati le uscite presidiate altrettanto i bracciali contapersone e poi le cose che non si possono portare e la videosorveglianza continuiamo con la politica pronto a mediare non a fare da pacere Fratelli d'Italia N con il coordinatore Gian Donato Morra ha già fatto la sua scelta di campo sulle alleanze i due centrodestra da una parte i Beati Paoli Gatti e Tancredi dall'altra i civici di Dalmazio di Stefano Chiodi e Fratelli d'Italia rientro in maggioranza in questi tre anni ci hanno offerto davvero di tutto abbiamo sempre rinunciato in nome di un progetto politico e non partitico aperta l'inchiesta sull'incendio a Larichetti cambiando argomento la procura di Teramo indaga sul disastro colposo per il momento nessun iscritto nel registro degli indagati per il rogo di Sant'Atto l'accertamento pare che l'origine del rogo sia all'esterno del magazzino andato completamente distrutto per primo continuiamo il comune la spunta contro specia frutta la Cassazione mette fine alle richieste risarcitorie della famiglia Panichi giudicate inammissibili addio a Flaminia la signora della pizza per quanto riguarda ancora le notizie da Teramo e poi scuole sicure l'ex PD Gian Guido D'Alberto batte un colpo tempo scaduto per le verifiche andiamo avanti venerdì di gusto un naso elettronico per testare l'olio d'oliva il team del professor Compagnone ha messo a punto un sistema di 12 sensori per distinguerne le qualità vediamo il servizio di Tania Bonici Castelli un naso speciale per giudicare la bontà dell'olio d'oliva all'università di Teramo il gruppo di ricerca della facoltà di bioscienze e tecnologie agroalimentari diretto dal professor Dario Compagnone sta studiando un modo semplice rapido per classificare i campioni di olio utilizzando un naso elettronico il naso elettronico ma che cos'è? il naso elettronico è un insieme di sensori a gas che ricorda in qualche modo il funzionamento del naso umano chiaramente molto meno complesso del nostro naso e che utilizza questi sensori insieme a delle tecniche statistiche per riconoscere determinati campioni e quindi per dare delle informazioni nel nostro caso sulla qualità o sulla tracciabilità di prodotti alimentari in particolare si può utilizzare per l'olio d'oliva ecco che cosa annusa nell'olio d'oliva? ma annusa l'olio d'oliva nonostante sia abbastanza semplice riconosciuto e conosciuto sostanzialmente in quello che si chiama lo spazio di testa quindi nella parte aerea dell'olio nell'olio ci sono presenti dei composti volatili che possono dare informazioni sia sul contenuto statutistico ma soprattutto sulla storia del prodotto questo naso viene quindi usato sui campioni di olio per riconoscere difetti e individuare la storia di ogni singolo prodotto in pochi minuti di sniffing elettronico si ottiene una perfetta classificazione del campione quali sono gli elementi che ci fanno dire anzi che vi fanno dire questo è proprio un buon olio beh l'olio va naturalmente assaggiato quindi oltre alle caratteristiche chimiche che di fatto vengono fatte in laboratorio l'olio extravergine di oliva è l'unico prodotto che per poter avere un'indicazione merceologica quindi per poter scrivere sulla bottiglia olio extravergine di oliva deve essere accompagnato anche da un'analisi sensoriale c'è un panel di esperti quindi naturalmente ci sono degli esperti che vanno a provare l'olio in primis con il naso e in secondo luogo attraverso l'assaggio vero e proprio voi siete degli scienziati però per una casalinga come fa a provare a capire che l'olio è migliore di un altro l'olio extravergine di oliva per essere un buon olio deve sapere proprio di frutto quindi deve avere le caratteristiche del prodotto di partenza quindi delle olive deve sapere di oliva deve sapere di verde ci sono degli attributi positivi c'è proprio un vocabolario che definisce l'olio quindi è meglio l'olio vecchio o l'olio nuovo? l'olio nuovo continuiamo altre notizie da Teramo brevemente apriamo le pagine del messaggero fallimento e distrazione di beni scanta il sequestro milionario bloccati fabbricati terreni e 30 automezzi a una ditta teramana operazione condotta in Val Vibrata provvedimento per 1,3 milioni di euro e poi la pagina di Giulianova Roseto e della Val Vibrata accordo sindaco democrattora gli assessori a Giulianova come previsto pace fatta prima di andare in consiglio prima di tutto il programma e delle deleghe si parlerà lunedì tra tre assessori al PD con il presidente del consiglio e un posto all'ente porto ad articolo 1 sindaco e bilancio resta la Cameli questo il punto sulla situazione politica a Giulianova adesso andiamo ad aprire le pagine dello sport iniziamo dal centro serie B il mercato dei biancazzurri colpo gobbo al Pescara il parermo il rompe su Gans lupo di S. pescarete dei siciliani presenta un'offerta più alta alla Juventus sudinese curibali no del senegalese l'avellino chiede pigliacelli e Nicastro continuiamo con la lettura del centro nel taglio basso il baby talento Pompetti all'Inter per coronare il mio sogno il centrocampista non sarà facile lasciare Pescara Verratti il mio idolo Zanetti mi ha incoraggiato andiamo ad aprire la prima pagina dello sport del messaggero per vedere qual è il titolo di apertura bravo Zeman cambia tutto Pierpalo Marino dopo una stagione così rivoluzionare la Rosa è l'unico modo per debellare il virus della sconfitta Capone mi ricorda immobile è un esterno di talento ma può giocare anche centrale col Bohemo può fare 20 gol così Pierpaolo Marino già direttore generale delle Pescara sarà una serie B con tanti giovani allenatori bravi da Versa Longo Inzaghi possono essere protagonisti le cessioni Zampano e Biraghi si cercano acquirenti il Pescara cerca di vendere i suoi pezzi pregiati nel taglio basso il Parermo prova a soffiare Ganza e Biancazzurro il club rosa-nero ha avviato una trattativa con la Juventus con gli agenti dell'attaccante restiamo al messaggero andiamo a vedere anche le altre notizie Serie C Teramo a caccia di giovani ma Sansovini è un caso per quanto riguarda i Biancorossi Biancorossi prima di vedere le altre notizie andiamo a vedere anche il titolo sulla Serie C Lega Pro che dir si voglia che riguarda il Teramo Teramo idea Barison si continua a trattare per l'albaese Alimi i Biancorossi sondano il difensore appena preso dal Pescara la nuova stagione scatterà il 15 luglio nel ritiro di Alfedena andiamo a vedere anche il titolo della città sempre sul Teramo recuperiamo l'apertura dello sport della città l'iscrizione è ok il Teramo è in astri di partenza presentata alla Lega Serie C la documentazione intanto per il mercato Bob vicino al Trapani Diavolo in ritiro dal 15 come detto Bob in viaggio verso Trapani il Chievo Verona vorrebbe coronato dai siciliani il Gambiano potrebbe essere una contropartita tecnica per arrivare al trequartista il Teramo in quel caso dovrebbe cercare una alternativa decisivi già due test il Diavolo giocherà contro l'Ala Fidelis il prossimo 21 luglio e il 29 test a Castel di Sangro con il Foggia per la Serie D Campanile San Nicolò è ufficiale il mister è stata una sorpresa il neotecnico della squadra Bianca Azzurra è stato liberato dal Cologna e guiderà la formazione nel prossimo campionato torniamo sul quotidiano il centro per andare a vedere le altre notizie di sport dall'eccellenza alla seconda ecco le richieste di ripescaggio la FIGC Abruzza ha diramato la lista delle società che hanno inoltrato la domanda di ammissione alla categoria superiore Serraiocco spinge per prendere il Francavilla da Mico sarà il nuovo DS intanto per la Serie D la vastezza si assicura Padovani e Bittai e Stivaletta è a un passo altre notizie basket Smith lascia Roseto e va in Francia sfuma venuto ora spunta Bolpin andiamo a vedere anche il messaggero abbiamo ancora qualche secondo di tempo di liberatore di Francesco tra i vincitori del premio Marciano riconoscimenti anche al Pescara Palla a nuoto sarà ricordato Pomiglio ieri l'evento che si tiene a ripatiatina è stato presentato in Regione Abruzzo per la Serie D l'Aquila inizio settimana la cessione lunedì o martedì potrebbero essere i giorni buoni ritroviamo la notizia che riguarda il San Nicolò e poi il basket in carrozzina l'abruzzese Simone De Maggi trascina l'Italia agli europei per quanto riguarda il calcio di lettanti Petrone e il Bepi Sardella primi colpi del Lanciano di De Vincentis noi ci fermiamo con la rassegna stampa mattino 6 torna lunedì alle ore 8 la nostra informazione invece oggi alle 14 alle 19 e alle 23 con il TG6 io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina vi auguro una buona giornata e ovviamente un buon fine settimana per averci seguito Grazie a tutti.